Tre giorni di raccolta alimentare all'ipermercato di Castagnole, poi un lungo lavoro al Banco di Rete Veneta a Sant'Artemio per sistemare il cibo raccolto insieme alla frutta e alla verdura donati questa settimana dal mercato ortofrutticolo di Treviso. Insieme a Mirella Tuzzato e ai suoi volontari, i ragazzi dei CEOD dell'Ulss9. Un progetto che sta crescendo e sta dando grandi soddisfazioni. Sono stati tre giorni meravigliosi. Pensate cosa abbiamo raccolto. Adesso diamo veramente i numeri. 1.086 litri di latte. Una cosa pazzesca. Mai visto una cosa del genere. 695 chili di pasta. Certo che io non ho 30 volontari. Io ho squadre interi di volontari che sono i cittadini che ci portano questo ben di Dio. Io non so cosa sta succedendo, però io vedo che Rete Veneta è affidabile, è amata e le cose che dicono è andate avanti così che noi ci siamo. Borse della spesa davvero ricche questa settimana per le centinaia di famiglie arrivate a Sant'Artemio. Perché i risultati della tre giorni di raccolta a Castagnole sono davvero straordinari. Protagonisti gli ospiti del CEOD di Paese. Io sono Alessandra Dallalibra e faccio parte della cascina di Paese. Mi sono piaciute di più tante alimentari, tante cose che servono per aiutare il prossimo e quelli che hanno più bisogno. E ti è piaciuto venire a fare la raccolta? Sento, sempre. Sempre, bene. A chi manca? Adesso Mattia. Allora. A tu Mattia? Io ho piaciuto aiutato Alberto per mettere in mente le posti di zucchero. Ciao, buona sera. Sono proprio bravi, bravi, ma soprattutto sono tanto bravi anche i loro operatori, che ringrazio, che saluto. Tutta l'Ulss che mi dà questa possibilità di avere al mio fianco questi meravigliosi ragazzi. E un saluto anche a tutti i miei volontari che qui vedete, che stanno veramente lavorando tanto. Tutta l'Ulss che mi dà questa possibilità di avere al mio fianco. Tutta l'Ulss che mi dà questa possibilità di avere al mio fianco.